Strettissimo eh? Rausberg adesso Rausberg Kante 8 centesimi se la sta giocando con Kriegmeier uh che largo, può perdere qualcosa ah si siede e persa qua l'ha persa, si siede due volte oh! rischia le reti, giusto alla fine 19 centesimi ancora dietro ma è andato larghissimo mamma mia Kilde riesce a tagliare il traguardo in sesta posizione a un secondo però ceri accesi in casa Kilde e anche casa Schifrin due volte si è seduto lui è Oder ma tutte e due oggi hanno rischiato veramente tantissimo andiamo a rivederla andiamo a rivederla qui sono le pressioni che ti schiacciano per terra mamma mamma mamma